Belly Boys è uscita la Banned Belly Boys è appena uscita la Banned e sono obbligato a farla Io adesso volevo andare a dormire e invece devo registrare Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Lasciate like per il supporto e andatemi a seguire su Instagram Lo sapete, mi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi, fatelo Detto questo però passerei subito alla ciccia Let's go Ok Boys, la cosa divertente di questo video è che io stavo scrivendo la mia Banned Prediction E l'ho azzeccata praticamente tutta Eccetto per le carte che hanno messo in più Ve lo dicevo che Tier sarebbe stato toccato ulteriormente Però ovviamente un sacco di persone dicono no, è impossibile E invece sì, perché hanno bannato Agido e Kelbeck Let's go signori Ovviamente il mazzo può ancora giocare però comunque sia Agido e Kelbeck tanta roba Poi, Math Match Circular Porca Madonna Questa cosa non mi piace perché avevo appena registrato video su Math Match e niente Volato dal baretto Circolare proibito Non può giocare un mazzo budget Continuiamo con i solde Signori, non vi metto le immagini perché questo è un video rapido Non voglio neanche editarlo Però i solde è volato dal baretto Ah, non ve l'ho detto Questa Banned sarà effettiva dal 1 gennaio 2024 I solde vola Ovviamente i solde non doveva neanche esistere perché è veramente troppo forte Ovviamente è una carta che scomba troppo Non l'hanno proibita per quel pazzo che ha portato Exodia Però come avete visto ci può fare anche queste cose Cioè con i solde se per caso non prende un Entrap può fare qualsiasi cosa Continuiamo con le proibite E non c'è niente Quindi i solde I due cosi che millano e circolare Sono volati dal baretto Passiamo poi alle limitate Ovvero le carte messe a 1 E qua c'è una carta, raga Madonna ragazzi Madonna ragazzi Orcus Arp Horror a 1 Signore, Arpa Arpa tornerà finalmente Penso che il mazzo farà poco Però comunque sia Ci siamo tolti questo sassolino della scarpa Noi giocatori del quadrimeta Cioè raga il quadrimeta bellissimo Che cazzo io volevo dire Era veramente bello Arpa a 1 Let's go Redox Il drago dei macigni A 1 Attenzione Attenzione Rescue Ace Air Lifter A 1 Signori Rescue viene toccato Mi dispiace perché lo gioca Mi dispiace perché era un mazzo forte Sinceramente non avrei toccato Lifter Ok Io avrei messo a 1 Il trattore Perché 7-4 è veramente E' proprio folle Come effetto Settare 4 è veramente folle Cioè ti fa più 22 in campo quella carta Non c'ha senso Ovviamente non penso che sono andati a toccare pesantemente il mazzo Mettendo ad esempio il trattore a 1 Turbo Ranzo insomma Saluto a Nick Perché comunque sia C'è Diabelle Star si deve vendere In qualche modo Non possono toccare la carta più sgravata del mazzo Perché sì E' quella Quella più sgravata del mazzo Poi Mi dispiace Cane Rosso Cane Rosso degli Unchained L'avevo detto a Lollo Purtroppo avevo ragione Mi dispiace dire che avevo ragione Perché il Cane Rosso è effettivamente la carta forte del mazzo Perché il Cane Rosso è devastante Il Cane Rosso raga Mi fa vincere tutte le partite Perché Veramente Veramente devastante il Cane Rosso Passiamo poi a Sunavalon Dryas Attenzione E Sunvine Healer I due mostri Di Sunavalon Ovviamente Perché hanno toccato queste carte Perché Ragazzi Il mazzo budget Non deve vincere un YCS Ovviamente Konami Rulets Vi ricordo Innanzitutto Vi ricordo una cosa Che non vi ho detto prima Perché ormai la doppia è scontata Visto che voi mi seguite E quindi mi conoscete La Banned nel TCG Non serve a fixare il gioco La Banned nel TCG Serve a vendere Punto E i mazzi budget Non possono vincere un YCS Ok Di base è questo il regolamento Di base è questo Non ve lo dicono gli altri Perché c'hanno lo sponsor Konami Però è così Sto cazzo di mazzo degli alberi Ovviamente ha vinto quanti Due YCS Due o tre YCS Non mi ricordo Due sicuro Ovviamente Un mazzo budget Che vince YCS E fa troppo male alle finanze Passiamo poi a Ibb Il sincro Ve lo faccio vedere Perché magari Non ve lo ricordate Questo qua Tornerà ad uno Questo fa le combo Pazze sgravate Questo farà le combo Pazze sgravate Scendiamo ancora Attenzione Snatch Steal Uh Snatch Steal No vabbè raga Strappa Possesso a uno Strappa Possesso a uno Strappa Possesso a uno Andate a comprare subito Strappa Possesso La prima edizione Quella Foil Se c'è non mi ricordo Strappa Possesso a uno Raga Fantastico Fantastico La Konami fa queste cose Ogni tanto Gozen Match A uno Godo Porca miseria Godo Flood Get di merda No Per Cambly No Ce ne può essere solo uno A uno Ce ne può essere solo uno Di ce ne può essere solo uno Madonna Rivalità a uno No Ma cos'è Ma cos'è ma No sborro Cioè è assurdo Assurdo Mi faccio una pippa appena stacco il video Cioè Godzen Rivalità E ce ne può essere solo uno A uno Madonna ragazzi Madonna Sì 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 Questa è una cazzo di banned Questa è una cazzo di banned Let's go Let's go Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Flood get a uno Guarda se c'è pure Skidrain Ne faccio una pippa in diretta No non c'è Skidrain Raga Flood get a uno Godzen a uno Rivalità a uno Ce ne può essere solo uno A uno Mamma mia Posso pure chiudere il video qua Posso chiudere il video qua Posso chiudere il video qua Raga Devastante Devastante Andiamo alle semi limitate Spero che sto registrando Semi limitate Uuuuh Dino Fressler a due Signori il Pankratopo Il Pankratopo torna a due Quindi questa cosa mi fa capire che Ferri rimane a tre Ferri rimane a tre E Pankratopo a due Madonna ragazzi Let's go Terror Top No vabbè raga No vabbè raga Terror Top a due Terror Top a due Terror Top a due Non lo sapete chi è? Non lo sapete Ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere Giocatori di vecchia data ragazzi Giocatori di vecchia data No raga No raga Torno cobia Torno cobia Vado al nazionale cobia Faccio Zero X Ma non me ne frega un cazzo No raga Terror Trottola Terror Trottola No raga Ma che messa a due A due No vabbè raga Cioè Questa è la banda Sleepy Memory A due Ve l'avevo detto Vabbè carta un po' troppo rotta A pescare tutte quelle carte In stampi Non è che sia una cosa molto carina Peccato che questa merda Di Fontana Runic Non sia uno Peccato Però comunque sia Signori Terror Top a due Terror Top a due Rilasciate Released Libere Arcidemone Infernity Mamma mia Unicorno Unicorno torna a tre Unicorno torna a tre Assurdo No Mind Control Controllamente No A tre Greve Controllamente a tre Insieme a Strappa Possesso No greve Greve Grevissimo Grevissimo Qui si inculano i mostri Qua si va avanti a inculare i mostri Desire a tre Spellbook del giudizio Passo sgravato A tre Starter a tre Starter a tre Madonna ragazzi Il plus Il plus Per chi non lo sa Magari non mi seguiva Io ho presi Tutto sprite Pimpato alla massima Prima che Uscisse la vecchia Banned Quando hanno messo Starter a due Quindi Let's go E Goblin Riccardo Goblin A tre Mamma mia Riccardo Goblin a tre Questa Banned è folle 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 Raga Droppate il like Cazzo droppate il like Perché veramente Bah pazzesca Pazzesca veramente Guarda Terror Trottola 2 Non me l'aspettavo veramente Pananca topo nemmeno Cioè nel senso Io magari pensavo Serrera 2 Sleepy Memory Fuori si ci sta Mi dispiace per Fontana Runic Ma raga Limitate a uno Quei cazzo di Floodgate di Merda Porca Madonna Giocatori stun Madonna andate a fare In culo Fantastico Fantastico Guarda il fatto che Mi hanno limitato a uno Il cane rosso E mi dispiace molto Perché Uncined È veramente un mazzo Bellissimo Anche se non fosse Stato meta È attualmente Il mio mazzo Preferito Perché è veramente Bello E fa tutto il pilota Cioè veramente È il giocatore Che fa il mazzo Su Uncined Veramente Mi piace per quello Mi dispiace per il cane rosso A uno Però Questa cosa viene bilanciata Dal fatto che hanno messo Ste tre carte di merda Ste tre tumori E come avete visto Il bash Ha ragione Big welcome Non può andare a uno Uno perché non c'è motivo E l'hanno ristampata Ultimate Due perché l'ha comprata Il bash E il bash Fa solo acquisti Fatti bene Ragazzoni Che dire Rescue Toccato Il solletico Alle palle Ci sta Ci sta Tanto c'è Emergency a tre Non c'è problema Arpa uno Chissà cosa scappa fuori Già mi immagino i video Dei portoghesi Che fanno Che giocano solamente I simulatori Cosa vanno a fare Kelback agito Vabbè Chiamatissime Ci sta I soldi pure Chiamatissimo E nient'altro Non c'è nient'altro In bandito Madonna ragazzi Quanto si gode Limitate Ma le limitate Devastanti Devastanti proprio Mi dispiace Per gli alberi Sono sincero Mi dispiace per gli alberi Perché comunque si ha C'è sta Rick Asunavalon Ve l'ho detto Mazzo budget Che vince YCS Non va bene Per la Konami Non va bene Quindi si sega Mi dispiace per Unchained Perché alla fine Il peggior nemico di Unchained È Unchained stesso Perché quando Quando bricca Non fa niente Però ci sta Mi dispiace Mi dispiace Ma lo accetto Il resto è storia Il resto è storia Rivalità A1 Ce ne può essere solo uno A1 E Godzen A1 Ci mancava Skilldrain A1 Devastante Fantastico Per un'ultima volta Andiamo a vedere Semilimitate Parancatopo 2 Assurdo Non pensavo proprio Pensavo Ferrir A2 Terror Trottola Inaspettato Sleepy Memory C'è sta Chiamata E vabbè Le Slimitate Pazzesche Cioè Pazzesche proprio Starter A3 Devastante Devastante Boys Spero che questo video Vi sia piaciuto Andatemi a seguire su Instagram Lo sapete Vi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi Fatelo Lasciate un like Per il supporto Iscrivetevi se ancora Non l'avete fatto E noi ci beccamo Al prossimo video Let's go Madonna ragazzi Madonna ragazzi Madonna Madonna Spettacolo 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 Let's go Let's go Floodgate Di merda I Floodgate Devono sparire Devono sparire I Floodgate Devono sparire Staccato